Seconda parte del video del vivaio La Campanella, questa qui è la bellissima Adelaide d'Orléans, un libido di Sempervirens, quindi ha delle foglie semi sempreverdi e questa qua è la Leontine Gervais, un bellissimo libido di Huichurana. Questo matrimonio è perfetto, il profumo è incredibile, vedete qua un po' meglio la Leontine Gervais, che appunto è una poesia di rosa, eccola sempre la Leontine, questo è il giardino delle rose galliche che vedrò in seguito, questo è qui l'Alexandre Giraud, che a me sinceramente non piace ma sono problemi miei, è del mio ego, è cosa del genere, la bellissima Alexandre Giraud, della Maria Lisa, bellissima, bellissima, tutti questi qua sono dei ramblers che diventano enormi quindi se li volete dovete comunque tenerli così dovete potarli. Questa qui è la bella Doria, che è la tale come un d'ombre repaire, questa è quella di Montier, bellissima, guarda, questa è una rarissima libido di Huichurana, la primavera, la primavera, la François-Juranville, questo è un spettacolo di rose, meraviglioso, meraviglioso, questo qui è un classico, la Beric Barbier, che c'è dappertutto, ma bella è e bene sempre. Questo è il campo di, queste sono rose botaniche, questo è il campo di papaveri.